benvenuti amici ascoltatori siete su penne calamaio e siete su web live tv oggi con noi ospite elisa paternoste ciao lisa ciao allora di solito noi iniziamo sempre con una domanda anzi in realtà samantha che è la titolare della trasmissione parte sempre con una domanda come dire di conoscenza e io della giro chi è elisa scrittrice elisa di tutti i giorni allora lisa è una donna di 43 anni quasi 44 lo dico senza vergogna vivo a roma e lavoro in un'azienda internazionale mi occupo di consulenza nel campo del real estate da quasi 20 anni il mio lavoro mi porta tantissimo a viaggiare oltre alla mia passione per i viaggi ma la scrittura è sempre stato qualcosa che era dentro di me ho iniziato da quando avevo 12 13 anni ho iniziato con una sorta di pièce teatrale che non vide mai la luce e tutte le cose che ho scritto non hanno visto mai la luce forse per una mia insida timidezza nel donarlo agli altri fino a che mi sono convinta che forse era un momento giusto e quindi ho terminato il mio primo romanzo e l'ho pubblicato con terre sommersi si chiama acqua marina e spero che oltre a vedere la luce metterà anche le ali assolutamente senti come quando è che uno scrittore una scrittrice alla come dire la molla che gli scatti dice scrivo un romanzo scrivo un libro guarda io vivo di immagini di situazioni di eventi che mi capitano e dentro la mia testa mi faccio una serie di altre versioni possibili della realtà immaginaria che poteva succedere in qualsiasi cosa che mi che mi attraversa e quindi qualsiasi cosa per me entra nella testa e diventa un qualcosa di diverso e mi piace metterlo per iscritto quindi per me funziona così non per gli altri ma per me è tutta una cosa che succede nella mia testa e poi cerco di metterlo a parole senti com'è il tuo modo di scrivere sei una che scrive diciamo taccuino la mano o fogliettino volante perché magari all'illuminazione divina oppure ecco ponderi un po di più e quindi la scrittura un po da tavolino ecco c'è molto quello che parte molto di getto quindi quel momento in cui mi figuro questa situazione devo metterlo per iscritto adesso andiamo avanti con tablet e cellulari e quindi è un po più comodo in questo senso anche che ho la penna lo scritto ecco tutto qui da vicino a me e poi però inizio a rilavorarlo a creare la situazione più ampia intorno adesso sicuramente di questo in questo libro acqua marina quanto quanto c'è di te o meglio c'è un personaggio che ti identifica oppure l'hai un po idealizzato con te stessa la protagonista che si chiama alice una ragazza di 23 anni sicuramente non sono io ma il punto di partenza per creare la protagonista sono due caratteristiche fondamentali due passioni che io ho che sono la fotografia e viaggi e sono partita da lì e poi è una persona completamente diversa da me però a questi questi due elementi caratterizzanti che sicuramente sono presi da me come partenza infatti mi hai anche un po anticipato alla domanda che ti volevo fare proprio quella leggendo anche la sinossi del libro la protagonista viaggia molto proprio per le sue per quello che gli accade questo fa parte anche di te nel senso che comunque anche lui sei una viaggiatrice l'abbiamo letto sulla autobiografia quindi hai voluto comunque mettere la sua la sua passione la tua passione nella sua esperienza assolutamente e anche negli altri scritti il viaggio per me è una esperienza di vita e viaggiando trovo l'ispirazione per quello che devo scrivere quindi incontrando persone vedendo luoghi diversi paesaggi culture il cibo fa tutto parte del della caratterizzazione poi dei miei personaggi e delle e delle ambientazioni quindi senz'altro c'è molto di questo e tra prescindere ovviamente da dalle dalle cose che chiaramente abbiamo vissuto in questi due anni ma per una per una viaggiatrice ecco con la v maiuscola quanti sono stati duri questi due anni parecchio parecchio pensando che l'ultimo aereo prima del covid l'avevo preso ancora lo ricordo poco prima fine gennaio del 2020 dopo rimanere a terra è stato è stata una grande fatica faccio ancora fatica anche se grazie al mio lavoro sono riuscita a partire adesso sì siamo un po più liberi in questo senso però dover sottostare a tutte queste regole sentirmi un po' come in gabbia per me quella è stata la situazione anche se senz'altro ci sono cose peggiori ma mi ha fatto sentire molto in gabbia questo è questa è la sensazione senti parlando con diversi autori diversi diversi scrittori anche con molti musicisti nel periodo ecco quello più cupo ecco di lockdown molti hanno avuto difficoltà per esempio a scrivere a esternare un po' i propri pensieri no tu come l'hai vissuto sei stata produttiva in quel periodo visto che stavamo comunque a casa o comunque c'è stato anche per te un blocco il famoso blocco dello scrittore e per me è stato positivo perché questo romanzo acqua marina nasce tantissimo tempo fa io l'ho iniziato dieci anni fa in un periodo difficile della mia vita poi per una serie di cose la famiglia il lavoro e quant'altro l'avevo lasciato lì nel cassetto durante il lockdown nonostante io abbia continuato a lavorare a tempo pieno io la notte mi mettevo a scrivere e quindi l'ho finito poi nel giro di neanche tre mesi e quindi per me è stato assolutamente fonte di ispirazione e anche di coraggio nel decidere che finalmente avrei dovuto terminarlo e darlo a qualcun altro che non fosse che questa diciamo ecco che chiamiamola una delle cose positive insomma di quel periodo che ci hanno che ci hanno un po costretto a stare a casa ovviamente senti invece è un altro grande passione proprio la fotografia no e quello è un altro grande aspetto anche artistico non solo tecnico perché molti con la fotografia molto tecnicismo in realtà è molta arte anche quella sì è una grande passione anche se non credo di avere un grandissimo talento mi sono rassegnata ma è comunque una grande passione e come dici tu si ci vuole la tecnica ma la fotografia è un attimo ti devi trovare nel momento giusto devi avere l'occhio giusto per quella esatta situazione e il più delle volte così che nascono i grandi scatti e infatti io ricordo sempre che una delle fotografie tra l'altro che venduta credo a due milioni di dollari e qualche anno fa il famoso angelo che di luce che c'era nel Grand Canyon che fotografò un fotografo la fece con un iphone 2 che sappiamo tutti che ha una telecamera un po vecchiotta ormai eppure eppure colse l'attimo come giustamente letto di senti domanda che è solo un po dal mondo letterario visto che siamo su una web radio chi sono i tuoi artisti di riferimento musicale cioè nel senso se magari quando scrivi ascolti musica oppure c'è qualche sottofondo che ti ispira assolutamente sì e ci sono anche degli estratti dei brani che mi hanno ispirato all'interno del del libro io sono una rocchettara e soprattutto il rock grunge degli anni 90 i miei preferiti sono i per jam e quindi quello è il mio mondo e che mi dà molta ispirazione anche se spazio un po su tutto è la musica grande fonte di ispirazione per me deve esserci sottofondo quando scrivo tra l'altro tra l'altro il grunge quello quello strong insomma quello bello tosto insomma prima maniera che ci piace un sacco senti invece mi deve lacerare dentro altrimenti non posso scrivere giusto giustissimo senti invece come lo vivi questo grande terremoto digitale che ci sta investendo no ormai qualche anno ma realtà oggi ecco si sa nel capo musicale spotify suoi 50 milioni di brani in uno smartphone ma anche ecco nel mondo della scrittura oggi non si scrive più diciamo così a penna ecco ma ecco con tutti questi supporti digitali che ci sono come lo vivi mi sono adattata anche se come dicevamo prima comunque scrivo devo prendere appunti perché le cose mi restano nella testa soltanto se le scrivo a mano però mi sono adattata perché sicuramente più comodo e poi si vive anche di social se ti vuole promuovere qualcosa bisogna prestarsi al gioco sempre con le dovute modalità ai dovuti criteri ed è comodo perché se devo darlo all'editore al correttore deve essere già online altrimenti è un lavoro triplo quadruplo infatti è un argomento interessante questo che hai sottolineato proprio per il fatto che oggi ecco uno scrittore come un musicista una volta si faceva la sua opera e poi c'erano gli altri che facevano il resto oggi invece tra promozione social la foto su instagram diventato è peggio di un lavoro cioè una passione lavorativa ecco chiamiamola così è vero senti invece vediamo domande quelle più tecniche siamo quasi alla fine della nostra piacevole chiacchierata prima di tutto allora il tuo libro come si può acquistare dove lo possono i nostri lettori dove i nostri ascoltatori dove lo possono acquistare allora è in distribuzione in maggiori librerie scusami e anche in tutti i bookstore online incluso anche i canali più grandi come amazon perfetto invece per chi invece magari vuole eseguire te vuole eseguire il tuo percorso da scrittrice dove ti può trovare allora sicuramente un mio sito web www.listatrattinopaternost.com all'interno ci sono tutte le novità gli eventi che sono prossimi la presentazione che faremo il 14 aprile a roma e c'è anche il mio canale instagram e c'è anche modo di contattarmi direttamente qualora si volesse perfetto senti l'ultimissima domanda nel tuo cassetto da scrittrice c'è già qualcosa in preparazione in lievitazione oppure ti stai godendo la promozione di questo libro no non ci si ferma mai e comunque già dalla scorsa estate ho iniziato chiuso acqua marina mi sono già cimentata nel prossimo probabilmente diverso nel genere ma sempre con delle protagoniste femminili ci tengo molto e sono già credo a metà dell'opera quindi non vedo l'ora di terminarlo e poi ho anche un altro progetto parallelo sto sto scrivendo in maniera romanzata la biografia di un di un amico david pironaci e stiamo abbiamo iniziato questa bellissima collaborazione quindi due cose in parallelo oltre alle altre tante che stanno succedendo in questo periodo benissimo allora siamo molto curiosi ti seguiremo nel tuo percorso e noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi per averci dedicato a questi 10 15 minuti del tuo tempo e amici ascoltatori acquistate il libro di lisa perché è ovviamente un bel libro e grazie mille lisa grazie manuele ciao a tutti linea la regia ciao a tutti linea la regia